Desmond Miles Riportati in vita da questa macchina La usano, anzi mi usano per trovare qualcosa La chiamano la mela È un manufatto Uno dei tanti cosiddetti frutti dell'Eden I Templari li vogliono È così che non tengono il potere E se i Templari ne trovano un altro Beh, cambieranno parecchie cose Vogliono renderci tutti schiavi Quando mi portarono qui All'inizio avevo paura di cosa sarebbe successo Se avessi reagito Ora ho paura di quel che accadrà se non lo faccio Ma non posso riuscirci da solo E forse non dovrò farlo Ho conosciuto una ragazza Lucy E credo stia dalla mia parte Ma adesso non c'è Se l'è portata via quel bastardo Warren Vidic e i suoi padroni Templari Non so cosa le succederà O cosa succederà a me So solo che devo uscire di qui E devo farlo alla svelta Mi chiamo Desmond Miles E questa è la mia storia Dobbiamo andare Lucy, dove sei stata? Perché ti ha... Ora Salve Cos'è quel sangue? Sei ferita? Senti Forse abbiamo dieci minuti Forse Prima che scoprano cosa ho fatto Se prima di allora non siamo fuori di qui Cosa? Ce ne andiamo? Desmond Prometto che risponderò a tutte le tue domande Dopo Ma adesso ho bisogno che stia zitto E faccia quello che dico Quindi per favore Entra nell'Alimus Va bene Per favore Sì, sì, brava! È maschio! Oh, amore mio, mi dispiace. Ero in banca quando mi hanno avvertito. Sono arrivato troppo tardi. Dallo a me. Giovanni! Amore mio, va tutto bene. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò, combatti. Sentite qua. Che razza di polmoni. E che nome gli daremo, amore mio? Ezio. Ezio, auditore da Firenze. Ah! 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 Mi serve un secondo. Non c'è tempo, Desmond. Dobbiamo andare. Sbrigati! Aspettami! Stiamo davvero uscendo di qui. L'abstergo ha degli arredatori con le contropalle. Stai vicino. Ehi, non siete autorizzati a stare qui. Aprite la porta! Chiamo rinforzi. Abbiamo una violazione nell'ala di ricerca. Ripeto, c'è stata una violazione... Che fai, Desmond? Seguimi! Fico! Eccole lì! Non fateli scappare! Oh! Oh, cazzo! Ma guarda che posto! E le telecamere? Ci ho pensato io. Mostrano vecchie riprese. Come credi che abbia nascosto all'abstergo tutte le tue esplorazioni notturne? Sei in gamba. Così mi dicono. Ma ora ci sono addosso. Bisogna sbrigarsi. Attenti. Dobbiamo raggiungere l'ascensore all'altro lato della sala. Stammi dietro. Ma occhio a quelli della sicurezza. Evitiamo gli scontri, ok? Quello è un Animus. Fermo. Ma che... Ma quanti ce ne sono? Calma. Si dice gli Animus o gli Animus? Tu che cosa dici, Lucy? Lucy? Che se ne faranno di questi? Desmond! Cazzo. Pensavo che questa scheda funzionasse. Deve essere su un altro sistema e non ho il codice. Aspetta. 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 Qualcosa. Che cos'era quello nel Animus? Il soggetto 16. Ezio. Audi. Audi qualcosa. Credo che ci siamo sbagliati. Ecco perché dobbiamo uscire di qui. Vedi che i Templari sono solo una parte del problema. Che vuoi dire? Te lo spiego una volta arrivati. Arrivati dove? Che vuoi? scherzi è per la tua incolumità ci siamo quasi grazie davvero fantastico essere ficcato in un bagagliaio e sballottato in giro di qua allora adesso mi vuoi dire che succede c'è un motivo per la tua fuga desmond ti pareva ci serve il tuo aiuto per cosa un'altra caccia al tesoro nel passato l'abstergo vuole sostituire la sua mela dell'eden la mappa che hai trovato ne è la prova gli altri assassini faranno il possibile dovunque sia possibile cosa che c'è stiamo perdendo la guerra desmond i templari sono troppo potenti e ogni giorno subiamo perdite ancora non capisco che cosa centro io vogliamo addestrarti farti diventare uno di noi cosa no 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 tu mi hai visto in azione io non sono capace e anche se lo fosse ci vorrebbero mesi anni no non con l'animus non con l'effetto osmosi ma io sono solo uno a volte non serve altro ecco perché l'hai trovato il mio antenato come si chiamava Ezio se riesce a seguire le sue tracce imparerai tutto da lui proprio come ha fatto lui anni di addestramento assorbiti in pochi giorni mi hai tirato fuori dall'abstergo e portato qui solo per farmi diventare un assassino senti c'è ancora dell'altro ma dovrei aspettare fidati ok va bene ci sto dimmi cosa ti serve davvero sei sicuro pensavo che ti avrei fatta felice scusa sono solo un sorpresa mentre guidavo ho passato tutto il tempo a pensare a come convincerti guarda dopo quello che mi hanno fatto passare quei bastardi sono pronto motivato e deciso grazie luci ce l'hai fatta dio quanto tempo sette anni roba da non credere davvero bentornata ah questo deve essere il famigerato soggetto 17 desmond miles giusto voi chi siete scusa che maleducato sono sean hastings e lei è rebecca crane molto piacere desmond bene piacevolissima conversazione ma se non vi spiace sarà meglio mettersi subito al lavoro in questi giorni il tempo è prezioso abbiamo già preparato tutto lucy quando vuoi possiamo procedere tieni ti ho portato qualcosa un regalino di commiato dall'abstergo wow il nucleo di memoria ma è fantastico con i loro dati le cose andranno molto più veloci mi butto sul codice di inserimento ciao desmond come va mi stavo chiedendo qual è il tuo ruolo qui mi prendo cura di baby faccio in modo che funzioni a dovere baby vuoi dire l'animus preferisco chiamarlo animus 2.0 visto che baby è due volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia l'abstergo i templari avranno anche più soldi di noi ma non hanno ambizione nessuna passione o competitività ecco perché nonostante le loro risorse qualunque cosa facciano io la faccio meglio è più in fretta comunque quando sei pronto sia di ti che iniziamo devo fare ancora qualche piccola modifica a che serve sta roba questa roba desmond questa roba non è niente di speciale davvero questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare a puttane lavorarci richiede una grande concentrazione quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare agli indovinelli shon ha il compito di mantenere i nostri archivi tipo una biblioteca digitale starà accanto a me mentre sei nell'animus quindi se ti imbatti in qualcosa di importante persone luoghi eventi eccetera creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni sì non è solo un database però fornisco anche supporto tattico agli altri assassini sai desmond quelli che stanno là fuori a operare davvero sul campo a rischiare la vita e robette del genere ciao senti volevo solamente dirti grazie e che mi dispiace per cosa beh sai per prima lì all'abstergo e che insomma non ero pronto tranquillo no dopo quello che ho passato sapere che i templari esistono ancora quello che progettano ciò che è fatto è fatto adesso sei qui ed è quello che conta e questa come funziona e ti pareva un bel respiro ma è che sei un po' panta sean beh fatto grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieri De Pazzi infanga il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Piantalo con i tuoi deliri, grullo! Buonasera, Vieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi e Codardo! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persona? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che le ho riservato poco fa. Uccidetelo! Ehi! Dietro di te! Federico! Tu che ci fai qui? Volevo vedere se il mio fratellino aveva imparato a fare a botte. E che ti pare? Hai stile. Ma è la resistenza che conta. Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te. Indietro! Aspetta! Che c'è? Abbiamo quasi vinto. Il labbro. È solo un graffio. Aspetta al dottore, Vierlo. Non è necessario. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi. Restami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Prima finiamo col dottore, prima si va a dormire. Ben trovato, dottore. I fratelli auditore. Come mai la cosa non mi sorprende? Ma guardate un po' come vi siete ridotto. No, non è nulla. Dovete aiutarlo. Quel bel visino è tutto ciò che ha. Fottiti. Ecco fatto. È ora fuori di qui. Grazie. Di qua. Forza allora, di qua. Ma dove vai? Vedrai. Bella vita la nostra, eh, fratello? La migliore. Posso non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Va bene. Adesso basta. Dobbiamo tornare a casa. Andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo. Cristina! Cristina! Chi è là? Io. Oh, Ezio! Dovevo immaginarlo. Posso entrare? Va bene, ma solo per un minuto. Un minuto mi basta. Davvero? Non intendevo in quel senso. Vieni qui. Ah. Ah, Ezio. Oh, Ezio. Cristina! Cristina! Sveglia! Arriva il tuo precettore. Forza, figlia mia! Ma che cosa sarà mai, sveglia... Porco demonio! Ma che succede qui? Perdonate, messere... Chiedovenia! Io ti ammazzo! So via! Non è necessario! Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi che io sia cieco e sordo figlio? So tutto della tua scaramuccia con vieri dei pazzi di questa notte. Eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi... Mi... Mi ricorda a me quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo de' Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Ah, Ezio! Ben trovato! Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggia e me. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Ah! Salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberti. Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio. Sì, padre. Ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi. Ma per adesso, vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio. Ciao! Buongiorno a te, giovanotto.